La pubblica amministrazione italiana sta attraversando un processo di grande trasformazione per quel che riguarda la pubblicazione del dato. Stiamo passando da un paradigma di dati endogeni, gestiti dalla pubblica amministrazione con un paradigma chiuso, di trasferibilità da un ambito all'altro in una logica di debito informativo, un paradigma aperto dove il dato pubblico viene reso di default. In questo contesto la normativa abilita la possibilità di utilizzare i dati pubblici da parte di tutti gli operatori del settore e dei pubblici cittadini. Questo rappresenta sicuramente una grossa sfida sia da un punto di vista delle tecnologie che da un punto di vista del business. In questo contesto un system integrator deve cambiare la propria gamma di servizi e passare da una più tradizionale offerta di servizi di data integration a un'offerta che consenta di arricchire questi dati abilitando logiche di interoperabilità sia tra gli ambiti che i dati vengono messi a disposizione creando nuove ontologie ma anche nuovi servizi di valore aggiunto in una logica di distribuzione di servizi, di informativi al pubblico ma soprattutto anche al privato.